Healing Voice non è una tecnica. È la mia esperienza. Non è spiegabile per la mente, ma è qualcosa da vivere. Non sono solo suoni, ma sono messaggi e conversazioni vibrazionali profondi con la tua essenza. Tutto nasce dal suono. Il suono ha la capacità di penetrare nella materia e trasformarla. Healing Voice ha due parti. Nella prima parte sentirai questi suoni canalizzati e nella seconda parte invece riceverai i messaggi che arrivano dalle mie guide spirituali per te. ooooh 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 U 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